Un referendum tra i cittadini siciliani e calabresi per sondare la volontà popolare sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. E' la proposta del Partito dei Siciliani che ha formalizzato l'iniziativa nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni. Gli autonomisti insomma dicono che è ora di dare la parola direttamente alla gente, anche perché la recente scelta del Governo nazionale di non prorogare i termini per la realizzazione del progetto rischia di creare un gravissimo danno. Eurolink, il general contractor che si era giudicato l'appalto, ha infatti deciso di avviare un contenzioso per inadempienza contrattuale contro la stretto di Messina S.p.A. e di conseguenza contro lo Stato. E ci fa diciamo senso pensare che l'opera di progetto appaltata costi 1 miliardo e 300 milioni e che adesso non si possa realizzare e la ditta chiede un risarcimento pari alla stessa cifra di realizzazione del progetto. Quindi credo che ci sia da rimarcare una specie di astiosità da parte del Governo centrale rispetto alla Sicilia perché un'opera così importante che vedeva la sola realizzazione del progetto un importo così notevole e lo stesso importo invece di per realizzare una fase progettuale che viene realizzata per compensare la ditta del mancato guadagno, del mancato utile ci sembra oltremodo oltraggioso nei confronti della Sicilia e dei siciliani.